Allora, ciao! Come mai queste bandiere del leone? Perché? Sono le bandiere della Repubblica Serenissima Una realtà storica che è bene conoscere Noi siamo a spasso con Leone Io sono Tommaso, io Edoardo, il nostro storico Ciao! La nostra guida di Chioggia, eccola qui Ma siete un gruppo politico? Cosa siete? No, un gruppo culturale L'unica bandiera che abbiamo è il leone di San Marco Non ci avviciniamo a nessun partito politico Né alcun tipo di altra fede Noi crediamo soltanto nella cultura, nella storia E a noi piace scoprire chi eravamo E soprattutto renderci conto dell'importanza delle nostre tradizioni Ma voi di dove siete? Chioggia, Venezia? Noi siamo Venezia, Mestre, abbiamo qualcuno di Chioggia Siamo un gruppo... Avete anche il sito, il blog o qualcosa? Abbiamo, siamo su Facebook Ci trovate sotto a spasso con Leone A spasso con Leone? Facebook Allora, non mancheremo di andare a vedere Magnifico! Ciao, grazie! Ciao! Ciao, ciao!